Un recente sondaggio del portale scuola.net intervistando 11.000 giovani italiani ha stimato che un adolescente su cinque ammette di aver usato violenza nei confronti della propria partner fidanzata. Sempre all'interno dello stesso sondaggio è emerso che addirittura il 45% degli adolescenti ritiene che le violenze all'interno di un rapporto siano un fatto privato e come tale rispetto al quale il resto della società non dovrebbe interessarsi. E infine un'altra percentuale significativa è che più del 30% delle ragazze ritiene di perdonare i gesti di violenza più o meno articolata e di diversa intensità subita all'interno del rapporto. Questi sono numeri che fanno sicuramente riflettere e che ci stimolano significativamente a intraprendere una strada che come Consiglio regionale del Piemonte avevamo già deciso di intraprendere all'incirca un anno fa quando il progetto dell'educazione sentimentale nelle scuole piemontesi è partito in una circostanza che era la celebrazione di una giornata contro la violenza sulle donne. L'idea iniziale era stata quella appunto di considerare il fenomeno della violenza non solamente nel momento della denuncia dovuta ma in un'ottica che fosse il più possibilmente preventiva provando cioè a portare all'interno di quello che è il contesto delle scuole seppure ovviamente non avendo in questo momento né la possibilità né l'ambizione di istituire un vero e proprio corso didattico ma a portare dicevo appunto all'interno delle scuole una testimonianza che fosse un aiuto all'ascolto e al dialogo per cercare di dare agli studenti piemontesi degli strumenti per capire il principio del rispetto dell'alterità all'interno di una coppia in primis visto appunto qual è stato qual è stata la genesi del progetto ma poi al di là anche di questi di questo singolo contesto per abbracciare tutte le tutte quelle che sono ovviamente le le occasioni i contesti di socialità di socializzazione quindi all'interno ovviamente anche di rapporti di amicizia o comunque complessivamente tutti gli ambiti ripeto della socialità insegnare al rispetto dell'altro insegnare al rispetto dell'alterità cercare di far comprendere che all'interno di una relazione qualunque essa sia sia sempre quantomeno in due e che quindi è necessario mettersi nei panni dell'altro provare a capire provare a comprendere le dinamiche che riguardano l'altra persona ovviamente a maggior ragione in un rapporto sentimentale e secondo noi a maggior ragione a partire dai giovani rispetto ai quali questo tipo di esperimento ci sembra assolutamente opportuno alla luce del fatto che questo tipo di dinamiche questo tipo di situazioni purtroppo hanno a manifestarsi molto frequentemente anche nel mondo degli adulti ecco quindi partire provare a dare una testimonianza sì di civiltà ma anche una testimonianza noi crediamo almeno questo è stato il principio ispiratore di questo progetto che tra l'anno scolastico 2018-2019 arriverà a toccare centinaia di studenti delle scuole secondarie dell'ultimo anno delle scuole secondarie piemontesi ecco appunto cercare di dare un messaggio di civiltà ma soprattutto provare a concorrere noi insieme alla scuola ad un progetto che possa liberare una cultura del confronto energie all'interno di una cultura del confronto che molto spesso manca alla nostra società in modo assai più ampio articolato e quindi con questo spirito la consulta giovani del consiglio regionale del piemonte ha intrapreso questa strada con la speranza che quanto prima si possa passare da quello che è attualmente un progetto pilota a qualcosa che possa articolarsi ancora più profondamente all'interno di quelli che sono appunto i percorsi i percorsi didattici noi ci auguriamo anche con il concorso in questo caso del MIUR grazie a tutti